Professore, un gruppo di ricercatori dell'Università di Stoccarda ha messo a punto un prototipo di volante intelligente, ci spiega come funziona? Sì, allora per capire come funziona è utile capire quali sono i sistemi con cui si confronta, che sono i cosiddetti sistemi di assistenza alla guida, di navigazione e intrattenimento, che normalmente usano uno schermo al centro della plancia e una manopola sul tunnel centrale del veicolo. Entrambi hanno il difetto di distogliere l'attenzione del guidatore, perché deve togliere lo sguardo alla strada oppure togliere la mano dal volante. Per quanto riguarda il primo problema, gli Head-Up Display risolvono sostanzialmente in modo definitivo questo problema, i ricercatori tedeschi hanno cercato di agire sul secondo problema, quindi sull'inserimento dei comandi, hanno quindi posto dei sensori tattili sul volante, unitamente a una telecamera infrarossi e questo sistema è in grado di cogliere in modo molto dettagliato e raffinato il movimento della mano e delle dita senza togliere la mano dal volante, quindi usando questo sistema il guidatore è in grado di mettere dei comandi nel sistema di navigazione senza togliere la mano dal volante. Che altri sistemi innovativi di interfaccia uomo-macchina sono ipotizzabili in futuro? Allora, questo sistema innanzitutto è un sistema che riguarda i comandi secondari, quindi quelli legati appunto a sistemi di assistenza, navigazione e intrattenimento. Molto interessanti sono invece i sistemi che riguardano l'interazione primaria, quindi del guidatore con il comando proprio di guida del veicolo, in particolare col volante. L'obiettivo della ricerca è quello addirittura di togliere il volante, cercando di rendere il veicolo semi-autonomo, cioè in grado di eseguire dei comandi base in modo autonomo, ad esempio una svolta oppure un sorpasso, e quindi in futuro l'aspettativa è quella di avere veicoli in grado di recepire semplicemente attraverso un joystick dei comandi semplici, appunto la svolta o il sorpasso, e il veicolo dovrebbe essere in grado di svolgere in modo completamente autonomo e in sicurezza questi comandi. È interessante osservare come questi sistemi che sono in fase di sviluppo utilizzino la cosiddetta metafora del cavallo, quindi l'interazione fra il cavaliere e il cavallo. Il cavaliere interagisce con un essere intelligente che quindi richiede solo un'indicazione sulla manovra da eseguire e poi è in grado di eseguire autonomamente l'intera manovra. E cosa sta facendo la ricerca per aumentare invece la sicurezza di guidatori e passeggeri? Allora, per quanto riguarda la sicurezza, tradizionalmente in passato si è lavorato soprattutto sui sistemi di sicurezza attiva e passiva, in particolare i sistemi di sicurezza attiva sono l'ABS, il controllo della stabilità e il controllo della trazione, la sicurezza passiva riguarda essenzialmente gli airbag. Questo sistema proposto dai ricercatori tedeschi tocca un problema di interazione uomo-macchina interessante ma non veramente cruciale al punto di vista della sicurezza. In futuro gli aspetti più critici e interessanti riguardanti la sicurezza del veicolo verteranno soprattutto sul tentativo di far interagire i veicoli attraverso comunicazioni wireless e localizzazione GPS in modo tale che il veicolo stesso sarà in grado, interagendo con gli altri veicoli, di capire in anticipo se stanno per avvenire situazioni di conflitto e di pericolo e quindi di risolverle autonomamente senza l'intervento esplicito del guidatore.